Con Riccardo Zanardo dopo la sconfitta nel derby ricca un derby di ritorno condizionato anche molto dai falli di Zane e di Temoca che hanno reso la ripresa di Legnaia sicuramente più difficile. Ciao Niccolò, non avere Patrick per metà del terzo quarto e rialzare Marco dalla panchina del terzo quarto a 4 minuti e 30 dalla fine del terzo per noi è un problema. Patrick e Marco sono una risorsa di questa squadra, sicuramente ci ha penalizzato il rientro dall'intervallo, dopo il pareggio all'intervallo siamo stati 3 minuti senza far canestro e qui al Palau Verciano non te lo puoi permettere. Dall'inizio dell'anno non riusciamo all'intervallo ad entrare concentrati purtroppo e questo obiettivamente l'abbiamo pagato. Come interpreti anche il cambio di ritmo da parte della squadra? Al primo tempo comunque la squadra ha giocato con una certa idea, ha provato anche la zona 2-3 che mi sembra abbia funzionato abbastanza bene, poi è stata una questione soltanto di densità e di falli oppure magari anche un po' troppa confusione in attacco? Un po' di confusione in attacco, se non si muove la palla è difficile, obiettivamente bisogna ribaltare il lato più spesso, certe volte ci siamo fermati in situazioni di palleggio statico e questo ci ha limitato soprattutto in soluzioni di tiro. Bravi loro poi lo sapevamo a reagire su queste situazioni e a correre in contropiede, ci hanno messo in difficoltà, 8 punti in una bagarre del genere sono tanti e quando crei un gap così è difficile colmarlo. Grazie. Grazie. Grazie.